Dove ce ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 Torniamo a parlare della clinica Santa Maria delle Grazie, ormai a un passo dalla chiusura La raccolta firme indetta da Partito Democratico, Lista Civica Ghezzi ed Italia del Rispetto tra venerdì e sabato della settimana scorsa ha ottenuto l'adesione di oltre 600 persone Per il consigliere comunale del PD Roberto Gallotti l'elevata partecipazione dei cittadini nei confronti di questa petizione è un dato particolarmente significativo Ci aspettavamo molto meno di quello che poi è stata la realtà Evidentemente i problemi che abbiamo sollevato, che abbiamo posto ai cittadini hanno incontrato evidentemente una, diciamo così, una grossa attenzione da parte dei cittadini che effettivamente hanno dimostrato che i due problemi sono evidentemente molto sentiti e sui quali sono molto interessati circa una possibile soluzione a tempi brevi Mercoledì mattina verrà un incontro tra il sindaco Carlo Barbieri e alcuni consiglieri rappresentanti della minoranza con un dirigente del gruppo ospedaliero Sandonato che aveva acquisito il 100% delle quote della struttura sanitaria di Corso Rosselli operazione che avrebbe dovuto scongiurare il rischio di una chiusura Sottoporremo al rappresentante dell'azienda i problemi che secondo noi conseguono la chiusura l'eventuale chiusura o comunque chiederemo a questo rappresentante quali sono le esatte intenzioni dell'azienda perché per ora sappiamo della chiusura dei posti letto ma non sappiamo di tutte le altre attività, di attività di tipo ambulatoriale eccetera eccetera e quindi chiederemo evidentemente maggiori lumi e chiederemo altre cose rispetto ad un possibile salvataggio della struttura Prosegue l'impegno di PD e d'Italia del Rispetto a favore della presenza dell'ambulatorio di guardia medica presso l'ospedale di Voghera tanto che giovedì se ne discuterà in consiglio comunale Rispetto a questa necessità che noi abbiamo ritenuto di sollevare al consiglio comunale nella sua completezza perché evidentemente il problema sollevato peraltro qualche tempo fa da alcuni cittadini evidentemente esiste la guardia medica svolge attività di continuità terapeutica, di continuità assistenziale e pertanto risponde solo alle chiamate e fa eventualmente visite di carattere domiciliare urgenti per quanto riguarda le visite ambulatoriali bisogna recarsi a casteggio cosa che a noi sembra veramente una cosa anomala e credo che risolvere questo problema sia evidentemente possibile con una quantità di risorse veramente minima perché si tratta di attrezzare una camera in ospedale e dare la possibilità al medico di guardia medica di fare eventuali visite ambulatoriali e questo evidentemente avrebbe anche un'importanza per quanto riguarda l'ospedale perché potrebbe fare da filtro per il punto soccorso alleggerire il lavoro del punto soccorso attraverso visite alle cosiddette persone che sono contrassegnate dal bollino verde che sono quelli casi non urgenti Soddisfatto anche Fabio Aquilini dell'Italia del Rispetto sempre più convinto che le petizioni rappresentino una modalità efficace per dare voce ai disagi dei cittadini Il successo di questa raccolta firme rappresenta semplicemente quello che io ho sempre detto e sostengo La raccolta firme, la petizione vuole essere strumentalizzata, banalizzata, quello che sia Il risultato rappresenta che attraverso la petizione noi siamo in grado di raccogliere l'emotività delle persone il loro vero disagio, la difficoltà, al di là della parte tecnica Il risultato rappresenta che attraverso la petizione noi siamo in grado di raccogliere l'emotività delle persone Il risultato rappresenta che attraverso l'emotività delle persone